Sicuramente è stata una bella scommessa quella di organizzare il congresso in presenza e la fortuna ci ha aiutato, quindi avremo questa opportunità importante di riconfrontarci con i nostri colleghi sia della regione che dell'Emilia-Romagna piuttosto che di altre regioni su temi importanti che sono quelli gastroenterologici più rilevanti. Avremo le tematiche in urgenza, il congresso sarà effettuato a Pesaro, all'Hotel Savoy e interverranno esperti della materia. Questo momento di confronto arriva in un periodo di tanti riconoscimenti per Marche Nord, anche nello specifico del vostro reparto, classifiche che vi mettono tra le eccellenze nazionali e non solo. Questo ci ha veramente gratificato anche perché come lei diceva durante la pandemia la gastroenterologia non si è mai fermata, ha garantito come sempre le urgenze provinciali, quindi non solo per l'ospedale di Marche Nord, ma anche per la provincia di Pesaro e di Urbino ed è soprattutto andata avanti anche con quelli che erano i progetti regionali come quello dello screening che pur in pandemia è stato garantito ai pazienti. E l'aver avuto questo riconoscimento della New Week ci rende veramente orgogliosi di far parte comunque di un'azienda Marche Nord che ha avuto altri riconoscimenti oltre che quello della gastroenterologia.